Luca Rangoni torna in pista nel campionato Superstar International Series. Dopo le esperienze negli anni precedenti, per la prima volta quest'anno il pilota bolognese sarà di seno in questo campionato nella tappa di Misano Adriatico. Domenica 10 luglio, infatti, Luca Rangoni correrà a bordo della seconda Mercedes C63 AMG del team Roma Racing, con Nicola Caldarola sull'altra vettura. Per Rangoni un ritorno senza dubbio importante e un'ulteriore esperienza nella stagione 2011 che lo vede impegnato su più fronti. Il pilota Felsino ha in corso già dai mesi scorsi la partecipazione al GT Open International ed è presente nel campionato italiano turismo Endurance ed è già salito più volte sul podio nelle gare alle quali ha partecipato. Il programma di questa quinta tappa del Superstar Series a Misano Adriatico prevede prove libere nella mattinata di sabato 9 luglio con qualifiche ufficiali nel pomeriggio, mentre domenica avrà luogo gara 1 con partenza alle ore 11 e nel pomeriggio gara 2 con partenza alle ore 16.40. Grazie. 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 Grazie.